Ma poi è finita la pacchia, tanto a me che conviene divorziare l'amica a lei. Allora lo vedi come mi scialo a casa da solo con i filippini a Multivision. Portami questo, portami quella. Ma quella è ricca di famiglia, Manni. Tra lei e la madre c'hanno più casa da Gabbetti. Io comunque, a scanso d'equivoce, dal giorno che ci siamo sposati ho messo da parte tutte le fatture che la riguardano. All'evo, all'altra zocco della figlia. Ristrutturazione della casa a 300.000, fatture. Macchinetta della figlia Panda in giro a fa la zocco la 5.000, fattura. Cure termali per lei, quell'altra stronza della sorella 2007. Fattura, fattura, fattura. Andiamo davanti al giudice voglio vedere. Quanto gli devo dare a questa? 300.000. Te, ne l'ho già dati, ma affanculo. Vabbè, prof, ma con queste premesse che la chiamiamo a fa, Costanza, non?